Il nostro paese è una vita incredibile nonostante non ci sia il respiro umano, forse proprio per quello, è come se si riprendessero una propria vita autonoma, è come se ci parlassero attraverso il loro passato. Ho scoperto un'Italia incredibile che lascia le proprie memorie al giorno d'oggi, memorie recenti, sono le Pompei del Novecento. Qui un edificio che indica comune di Roscigno non c'è mai stato, con la legge nazionale per i paesi franosi 1902-1908 è stato inserito nei paesi franosi, ma qua la frana non c'era, c'era il dissesto idrogeologico. Sono venuti in Brasile e sono state qua, vedi, anche queste, Buenos Aires, Solanta. Questo invece è un percorso originale che si pensa di utilizzare per l'ingresso nella città museo. A sinistra c'è una cappella, vero? Sì, questa è una cappella gentilissima, una famiglia, una cappella privata, e c'è una pietra del Cinquecento che fa pensare che è venuta da qualche altro posto nelle create. Ho una serie di miei riferimenti cartacei, perché ho bisogno di respirare la carta dell'epoca, per ricostruire una mappa dell'Italia estinta. Ed è venuto fuori questo libro che si chiama Le belle addormentate, chiaramente si può immaginare perché. Sono felice se la gente va a scoprirli questi paesi. quando mi scrivono dicendo ho visitato questo, quello, quell'altro, attraverso il libro, ma attraverso qualunque stimolo. Noi dobbiamo soltanto indicare a persone che non conoscono. L'anno scorso, per esempio, in questo contesto hanno fatto il presepio vivente. Hanno agappato una serata freddissima, però hanno fatto delle cose grandiose, perché in questo contesto ti puoi permettere di fare quello che vuoi, perché c'è una piazza in loro. Qui è tutto abusivo. Qua uno che sta qua è abusivo libero speciale. Anche gli animali sono abusivi. Qua ci sono cavalli, ci sono mucche, ci sono capre, ci sono tutti i tipi di animali. Il patrimonio non riesco in parco nazionale di incerenza. Come noi siamo nel parco e le conseguenze... Ma arriva qualcosa? No. Quindi è solo nominato. No, no, è una democrazia con le istituzioni. Sarà che ci sono soltanto il problema. Questi paesi sono fragilissimi. Fra 10-15 anni non esisteranno più. A volte le foreste si rimangiano, le strade per arrivarci si sgretolano. C'è un saccheggio continuo di gente che va, ruba le suppellette, i ricordi. Non c'è protezione. Chiunque può andarci. Oppure li chiudono e li lasciano lì, a marcire chiusi, negando anche questo tipo di bellezza che certo è particolare, però è una bellezza inedita. E visto che siamo storditi da queste cartoline laccate, un'Italia un po' più sciupata, ma che sia altrettanto affascinante, penso che sia altrettanto interessante. Invece questa è la casa di Pipistrelli. La casa di Pipistrelli è questa. Qua si hanno creato l'ambiente giusto e si conservano. E' l'unica casa dove troviamo di Pipistrelli. Nel momento di massima... E qua si arriva a 1600 abitanti. 1600, quindi il doppio di quanto siamo adesso. Il doppio di quanto siamo adesso sono 800. E qui abitava Zitorina? Si. Ma era una suora Zitorina? Si. Era una suora che raccontava a lei che per motivi di salute sarebbe costruita a lasciare e se n'è tornata e fatta la vita di campagna. Però è rimasta fedele al suo matrimonio con Gesù. Lei era la vera abitante del posto perché al di fuori che aveva dei giardini dintorni lei fino a venti giorni prima di morire era autosufficiente. Nonostante che era, si dice era ossa e spirito. Generalmente si dice pelle e ossa, ma questa era ossa e spirito. Andava in campagna, datasi che non usava gas, non cucinava sulla cucina a gas e si portava sempre un fascio di legna e ancora ci sono nelle case, ci sono le legne che ha lasciato il 2000 nelle case perché lei aveva tante case in questo contesto. Negli anni sessanta alcune botteghe comunque sono rimaste qua. La macelleria, l'alimentare. Poi il famoso barro, giusto? Il barro, sì. Io me lo ricordo, da piccolo mi ricordo il barro. C'era giù Box anche, magari. Eh? Eh? Questa collega a Roccino Nuo l'ha rifata. Ah, quindi andando a fare... Anzi addirittura poi continuando si va all'area archeologica di Montepruna che è pure un'area molto importante del quinto sesta secola avanti. E' stata abitata insomma in tempi differenti. Vedi? Andando proprio nelle... Le richiede. Vedi? Andando proprio nelle... Le richiede. Le richiede. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.